1.065 casi su 14.623 tamponi processati, tasso di positività al 7,22%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 27 aprile. I casi emersi dal report precedente erano stati 477 su 5.792 test con positività all'8,23%. Il totale dei contagi dal coronavirus registrati in Puglia sale a 230.714, di cui 48.661 attualmente positivi, 176.295 guariti e 5.758 deceduti. 36, di cui 17 provenienti dal Tarantino, 9 dal Barese, 3 a testa dal Foggiano e dall'Ecese, 2 a testa dal Brindisino e dall'Abat, sono i nuovi decessi. 1.086 sono i nuovi guariti. Stabile il totale dei pazienti ricoverati che sono 1.953, 2 in meno rispetto al 26 aprile. 46.708 sono i quarantenati. Su scala provinciale, il dato più alto di giornata è rappresentato dai 232 nuovi casi emersi nel Tarantino. 36.257 è il totale dei pazienti registrati nella zona ionica da inizio pandemia. 194 sono i nuovi casi registrati nel Barese. 88.890 è il totale dell'area del capoluogo di regione. Numeri simili nel Foggiano e nell'Ecese, zone nelle quali sono stati registrati rispettivamente 171 e 167 nuovi positivi. 41.825 è il totale della capitanata, 22.775 è quello dell'Ecese. 145 sono i nuovi casi sia nel Brindisino che nell'Abat, zone nelle quali il dato complessivo sale rispettivamente a 17.234 e 22.626. A chiudere il quadro, tre residenti fuori regione. 2.186.084 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.